Bene ragazzi, Alessandro allontanemi, faccio tutto da solo, togliete, lasciala, no no non ce la faccio, non cade niente, allora ragazzi, no no non cade niente, porterò su, vedete come sono messo, lungo le scale, la bicicletta di mio figlio, e lui sta davanti, è incredibile ragazzi, vediamo, Allora, qui, pazzesco, pazzesco, mille cindini, miglior canale di Youtube Italia, trascina, lungo una salita, Te la faremo, sono gli scalini, vedete, non è che è facile, vai, fai il tipo Alessandro, aspettate, vi faccio vedere Alessandro che fa il tipo, vai, No no no, tu devi aiutarli a fare il tipo, oh sta buono Dai Stipi, ti fa Vediamo come si è fatto ragazzi Adessoятona Poi devono passare mezzo a queste due colonnette Dai, ci sei Ci sono un attimo, un attimo E dai Bene, lo so, meglio, il canale di Youtube però E dai ci sono, ci sono, ci sono, aspetta, andiamo a piazza ho visto che sono alto questi scarini, no? dai, ci mancano due no, è forte, ci mancano solo uno aspetta, è alto mi manca solo uno però è difficile l'ultimo è tosto guardate, guardate, che ti casca addosso alla bici guardate fermati fermo, fermo come si dice in inglese? così si dice yes ragazzi, che spettacolo ma che accendini guardate 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 sali sopra la bici parto ragazzi pollici su, me lo merito merito io guardate Grazie a tutti.